il più cordiale buon sabato da maria betrice crisci le audio news di onda web tv le notizie positivo oggi 13 febbraio il world radio dei c'è chi l'ascolta in macchina chi sotto la doccia altri persino mentre lavorano per alcuni fa da sottofondo durante l'intera giornata per i suoi fan di tutto il mondo l'appuntamento è dunque per oggi questa giornata mondiale dedicata alla radio è stata istituita dall'unesco nel 2011 campagna arte card per san valentino a un prezzo speciale continuano le promozioni del pass della regione campania realizzato e promosso dalla scabec che permette di visitare musei siti culturali con tariffe agevolate fino a domani 14 febbraio in occasione della festa degli innamorati il pass arte card 365 sarà in versione love a un prezzo speciale il giorno dell'amore si festeggia anche con i libri il san valentino letterario propone ai più romantici l'idea di regalare un libro di poesie intanto noi vi segnaliamo l'appuntamento online san valentino con marco polani e il romanzo ricordati di splendere domani alle 18 sulla pagina facebook della libreria spartaco ed è dedicata a tutti gli innamorati l'opera dell'artista massimiliano sbrescia che un web tv ha scelto per augurare a tutti voi buon san valentino ed è tutto da maria beatrice crisci un forte abbraccio e una raccomandazione seguite le notizie in positivo di